Attenzione, sono partiti, attenzione perché sono partiti, si stanno incrociando perché uno ha la propria, ha la propria ragazza da raggiungere, ha dei problemi, ha dei problemi la giamaica, forse in galleggio le braccia troppo forte, le ragazze devono montare sopra e non possono spingere con i piedi, devono montare sopra e spingere solamente con le mani, la gamba devono stare all'interno del gombone, solo le braccia. Usiamo la cestina, chi ha la propria, attenzione si stanno scontando, attenzione sono in vantaggio, 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 bravissimo, e Anna ha vinto, Anna ha vinto, questa è la nostra destra, giamaica. Le parole stanno in vantaggio, tra una è all'incontrario, sei all'incontrario piccola, girati. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.